Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi potete andare su Golda.com e con il codice Justiz avrete un piccolo sconto, link in descrizione Buona prima ragazzi, qui è Justizio e oggi siamo tornati in questo video Come avrete letto dal titolo andremo a giocarci la finale del draft Perché sono in finale come potete vedere, ho vinto 3 partite senza subire neanche un gol La prima 4 a 0, la seconda finita 0 a 0, vinto ai rigori La terza 3 a 0, quindi ufficialmente non ho subito neanche un gol Con la squadra che vi farò vedere subito Questa è la squadra, come potete vedere ci sono due leggende ma alla fine è una formazione abbastanza modesta Neanche 100 d'intesa ciò E boh, quindi sono abbastanza sorpreso in realtà Ho dovuto mettere Ronaldo a destra perché non avevo ali destre devastati o che facessero intesa Quindi ho messo Ronaldo a destra ma è forte anche a destra, vabbè non è che ci vuole un gioco Poi c'ho due leggende quindi Paoleta e Aghi Quindi sono veramente molto molto forti Questa squadra devo dire che gira abbastanza bene Soprattutto il centrocampo perché sono tre centrocampisti di qualità Forse non molto difensivi però sono abbastanza di qualità Soprattutto hanno tutti e tre una buona conclusione da fuori Quindi anche quello mi è stato abbastanza utile Anche questo Dari da qua non raro Però da fuori gira abbastanza bene Quindi tanta roba E poi abbiamo Turan e Aghi soprattutto che è veramente devastante Comunque andremo a giocare questa finale Ovviamente la perderò perché sto registrando adesso E farò le figure di merda Però voglio vedere anche i premi che mi dà Nel caso sia che vinca sia che petta Quindi andiamo a cercare l'avversario Ovviamente lasciate un mi piace per portarmi fortuna Ovviamente perché dobbiamo vincere il draft Ho sentito anche che potrebbero dare i premi in crediti Quindi speriamo bene C'ho la fotocamera scarica Porco Aaaaaaah Ok avversario trovato Andiamo ad affrontarlo Come vedete ho anche il kit qua del foot world 11 Però usiamo questo qua del city Andiamo a vedere la sua squadra Speriamo bene raga C'è una caga assurda perché è il primo draft che gioco seriamente Ok stesso modulo nostro Squadra non eccessa Quindi anche lui per essere arrivato fino a qua Deve essere molto molto forte a giocare Vi ripeto Ho molta caga perché non sono mai arrivato fino a questo punto Cioè è il primo draft che mi ci metto lo gioco seriamente Poi ho provato a fare challenge strane 190 e cazzi vari Anche per conto mio Quindi è la prima volta che mi ci metto di impegno E arrivo alla finale Cazzo Quindi lasciate un mi piace Ho una caga assurda Speriamo bene Ma l'importante è giocarcela fino alla fine Poi comunque vada Noi siamo soddisfatti del nostro cammino Soprattutto perché è una squadra Vi ripeto Non eccezionale Anzi tutt'altro Lui copre molto bene Quindi dobbiamo far girare palla Così lo facciamo bene Darida Vede Paoletta 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 Per il palo Non ci credo Non ci credo Partiamo subito Con un inserimento di Paoletta Veramente molto molto Attenzione adesso a Welbeck Welbeck No 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 Supera in velocità Attenzione a Welbeck Attenzione a Welbeck Chiuso da Mascherano Grande Mascherano Sarà un problema No mi ero distratto Per vedere dove fossero gli altri giocatori Ho sbagliato tutto Attenzione no Attenzione a Neymar Non ci credo Non ci credo Il primo tiro dopo il nostro palo È andato a segnare Mi sono distratto con Neymar Ho perso palla Ovviamente lì dove non dovevo perdere Poi qui è stato anche molto fortunato Però dai C'è proprio sulla linea Bastavano 10 cm E non era gol Però va bene Partiamo malissimo Ci sta devastando Da quella parte No Oddio che Ok Qua siamo stati molto fortunati Ok Qua c'è da dirlo C'è da dirlo Ma Neymar ci sta arando Neymar ci sta arando Da quella parte Ci sta arando In una maniera indescrivibile Eppure ho De Marcos Che non è che è l'ultimo arrivato A livello di velocità Ci sta devastando Neymar Signori La palla che buona Attenzione Darida Darida Che cazzo fai Darida Cosa fai Darida di merda No 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 Abbiamo sprecato un'ottima occasione Abbiamo sprecato Non era neanche una skill Neymar 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 Cosa fai No la volevo passare Ho sbagliato tasto Sono un idiota Sono un idiota La volevo passare Ho sbagliato tasto Non ci posso credere Ho sbagliato tasto Ho schiacciato cerchio Che poi non è cerchio Qui sull'Xbox Però Secondo me Io ho fiducia Se riusciamo A non prendere il secondo Ecco E' gol E' gol Madò che culo L'avevo vista dentro Anche dopo che l'aveviata Moia Grande Moia Qui che chiude tutto Paoletta No Era partito Ronaldo Cazzo Va bene Allora La partita è molto combattuta Lui è molto forte Però ce la possiamo fare Io credo nella mia squadra Dai cazzo Quindi ci dobbiamo fermare E rientrare Fermare e rientrare Ancora Neymar Neymar va sul fondo Neymar Prova il destro Neymar Junior Santos Da Silva E con la dub Andiamo ad esultare 1-1 Grande Neymar Bellissimo qui Azione personale Grande Grandissimo Neymar Si rifa dell'occasione Sprecata Precedentemente E la piazza sul secondo palo Un tiro imprendibile Andiamo sull'1-1 Avanti così Cazzo Avanti così Che abbiamo la possibilità Di vincere Vai così Andiamo a vincere Portiamoci a casa Questi premi Dai 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 Come on Cristiano Vai Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo L'ha visto L'ha sapito Tira Non ci credo Darida Red incredibile Non ci credo Non ci credo Darida Vai puntare Mi è cascato Porco Due di controller Ti prego Dio fa che non si sia rotto No 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 Oddio Madonna mia Per fare il coglione Mamma mia Qua un mezzo autocolla Adesso tutti in difensiva Ultra difensiva Devo chiudermi Devo chiudermi Perché è molto abile Non possiamo rischiare E essere Un corpo solo in campo Signori Un corpo solo Questa è una palla orrenda C'è Neymar La mette in un posto Improbabile Improbabile La mette In un posto improbabile Sul primo palo Così a caso Praticamente Quindi Grande Grandissimo Bene Vai che l'hai visto Paoleta 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 Non c'è nessuno Cazzo Non c'è nessuno Dove sono i miei attaccanti Tutti Tutti Marcati Completamente Il contropiede No 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 Dio Dio ti prego Verrò in chiesa tutte le domeniche No Vaffanculo Vaffanculo All'ottantottesimo Non ci credo Cazzo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Tutti in attacco No 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 Abbiamo perso Abbiamo perso Cazzo Il migliore è il suo Neymar L'ho detto dall'inizio Che ci avrebbe burgato Quel cazzo di Neymar Porca trota Porca In realtà C'è Le statistiche Parlano chiaro Però Ci siamo mangiati Delle occasioni Che non sono riportate Qua signori Abbiamo preso un palo All'inizio Che avrebbe cambiato tutto Poi lui ha fatto Il secondo gol Improbabile Con Neymar Di sinistro Va bene C'è 5 stelle Sul secondo palo Cristo e Dio Sul primo palo Che cazzo sto a dire Coperto dal difensore Coperto dal portiere Primo palo Ma come cazzo si fa Mannaggia la puttana Mannaggia Vediamo i cazzo dei premi Una merda Pure i premi De merda Vaffanculo Che palle Che palle Oh No Sto sclerato troppo Regà Sto sclerato troppo Pure i giocatori De merda Mescono Vaffanculo No regà No No Va bene che aveva una squadra Di merda Però Cazzo Come cazzo si fa Porca puttana A subire quel secondo gol Di Neymar Il secondo gol Io dico Il secondo gol Perché il terzo Non c'era nessuno E il secondo gol Il secondo Come Cristo si fa Come Cristo si fa A subirlo Mannaggia la troia Non trovo neanche nessuno Nei pacchetti Chi cazzo è questo Chi cazzo è Yangambivo Ma vaffanculo Ma perché Dio mi odia Così tanto Io non so che dirvi Se non li lasciano Mi piace Per consolazione Purtroppo Dio ci odia E comunque Passate da Golta Se potete comprare Account FIFA points O crediti Ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio con sempre la visione Sono incazzato Come la bestia Perché il secondo gol Di Neymar Ditemi voi Se si può prendere Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Grazie a tutti.